Eurangiri è una società di ingegneria multisettoriale che però si occupa principalmente di automotive e nell'automotive dell'innovazione nell'automotive significa tante cose, sistemi per esempio automatici di guida oppure nuovi propulsori o macchine che utilizzano energie alternative e quindi a minore impiatta ambientale come il caso di Honda Solare Questa è Emilia 3, è un'automobile solare come potete vedere ha 6 metri quadri di celle solari, ha 21 kg di batterie e con questa vettura abbiamo partecipato a varie gare siamo andati due volte in Australia percorrendo 3.000 km da Darwin ad Adelaide siamo stati ad Abu Dhabi, siamo stati in Cile raggiungendo 3.500 metri di quota siamo stati in Belgio recentemente a settembre facendo la 24 ore di Zolder abbiamo percorso circa 1.000 km con un ottimo risultato in categoria e stiamo rilanciando con una vettura a 4 posti a ottobre 2017 saremo nuovamente in Australia a proporre una vettura a 4 posti Onda Solare non la trovate se è andata al concessionario per il momento per quanto riguarda Euroengineering Italia in generale quest'anno abbiamo lavorato su 32 modelli tra automobili, motociclette e anche veicoli speciali la maggior parte sono già i modelli del 2017 quelli che abbiamo lavorato quest'anno è stata anche un'occasione non solo per mostrare a livello espositivo quello che fate, quello che siete ma anche per discutere su questi temi Sì, di fatti è stata un'occasione unica perché si è parlato di dove sta andando l'industria dell'automobile a livello internazionale, stanno succedendo tantissime cose e abbiamo condiviso i nostri punti di vista con persone molto esperte provenienti da diversi settori, acceleratori, produttori di tecnologia sistemi integrator, venture capitalist e naturalmente start-up